buonasera a tutti 29 aprile 2022 buonasera roberto buonasera a tutti e buonasera margherita di casa del sole tv buonasera a tutti ok settimana sulla quale avremmo toccare soprattutto tre argomenti principali uno è il cambiamento totale nella finalità o meglio è uscito finalmente fuori la vera finalità di questa guerra e sono stati gli stessi americani a offrirci gentilmente la vera interpretazione di quella che deve essere questa guerra poi volevamo anche parlare un attimo dalla transnistria per cercare di capire un pochino meglio che problemi rappresenti e che quale sia la situazione lì perché se ne sente parlare ma ne sappiamo tutti molto poco poi vorremmo parlare del fatto che non solo continuiamo a mandare armi all'ucraina ma che anche stato secretato che cosa manderemo quindi noi cittadini mandiamo delle armi senza neanche sapere che cosa sono e quante siano e di che tipo di armi si tratti allora cominciamo dalla gentile spiegazione che ci ha offerto lo stesso ministro della difesa americano Lloyd Austin l'altro giorno a Rammstein quando ha spiegato chiaramente al mondo qual è il vero motivo di questa guerra vediamo il video numero uno per favore eccolo qua detto proprio nero su bianco così direbbe vogliamo vedere la russia vogliamo vedere la russia indebolita al punto da non poter fare le cose che ha fatto invadendo l'ucraina ha già perso molte capacità militari e molte delle sue truppe ricordate noi lo diciamo da sempre ovviamente stiamo diventando addirittura noiosi anche un po presuntuosi a dire sempre lo diciamo da sempre ma è così non c'è niente da fare il vero scopo di questa guerra che è stata concepita voluta e preparata e architettata dagli americani hanno fatto in modo da far cadere la russia in questo vicolo cieco dal quale non potesse più uscire è proprio quello di indebolire militarmente ed economicamente la russia dell'ucraina non interessa niente a nessuno sta venendo usata come esca i suoi cittadini stanno sotto le bombe in questo momento la vera guerra è fra gli stati uniti e la russia o meglio fra la nato e la russia si è quasi imbarazzante dover ripetere noi lo avevamo detto noi lo abbiamo sempre detto però è importante ripetere l'ho ripetita juvent proprio perché sia chiaro ecco da dove da dove viene una narrazione con un legamo alla realtà perché poi l'alternativa invece sono i media mainstream che abbiamo visto come facciano ballare allucinazioni di fronte al pubblico continuamente smentiti poi dai fatti questa guerra è sempre stata una guerra contro la russia è una guerra iniziata già da molti anni covata sotto la cenere per un sacco di tempo e il grande pubblico se ne accorta solo adesso comunque è ripetita juvent ricordiamo che la fase calda della guerra in realtà è già iniziata nel 2014 quindi adesso c'è solo stata l'accelerazione poi gli stati uniti che abbiano azzeccato meno la loro strategia la storia solo lo dirà l'impressione è che siano stati troppo ottimisti nella loro capacità di fare un blitzkrieg finanziario economico monetario contro la russia tanto è vero che il rublo non è mai stato più forte di adesso almeno negli ultimi mesi l'euro non è mai stato più debole di adesso almeno negli ultimi 4 anni il dollaro è relativamente forte rispetto a tutte le valute del mondo perché tutto il mondo in realtà sta perdendo ecco la guerra degli stati uniti è per mantenere la loro supremazia e per il momento sembrerebbe che loro ne stiano uscendo parzialmente vincitori in realtà gli unici vincitori in questo momento da un punto di vista prettamente finanziario sono gli stati uniti e la russia questo la dovrebbe dire lunga su contro chi è diretta la guerra sul lungo periodo invece è una guerra da cui non sembra esserci ritorno nel senso che ognuno dei due lotta in qualche misura dei due veri contendenti cioè gli stati uniti e la russia lottano ormai per la propria vera e propria sopravvivenza perché chiunque perda si rivedrà o distrutto nel caso della russia o ridimensionato a livelli microscopici perché se gli stati uniti perdono questa sfida il mondo multipolare appunto non solo si affermerà rispetto alla colloni polari degli stati uniti ma la russia cioè il nuovo mondo manipolare sarà la la parte in crescita la parte in divenire del mondo verso il quale si rivolgerà in quel grosso del mondo quel 70 per cento del mondo non allineato del quale i media mainstream vogliono volentieri sempre dimenticarsi. Io credo che Austin abbia fatto molto bene ad esprimersi così perché d'altronde sono semplicemente i nostri grandi media che non ci dicono le cose così come stanno perché in realtà dalla dottrina brezinski in poi ma anche prima comunque era già tutto quanto chiaro e già tutto quanto pubblico i saggi di brezinski come i suoi articoli fino a prima poco prima della sua morte sono molto chiari sono molto palesi ma soprattutto sono molto pubblici sono stati riportati anche dal washington post piuttosto anche e anche da altre testate internazionali le più importanti in uno dei suoi ultimi articoli descriveva per l'ennesima volta in maniera molto chiara che l'obiettivo avrebbe dovuto essere quello di contenere la cina e di annientare la russia e quindi il fatto che Austin lo dichiari per l'ennesima volta appunto è per l'ennesima volta ed ha fatto assolutamente bene perché in realtà sono veramente i nostri media in particolar modo quelli italiani che nascondono la verità ma la verità è sempre palese basta ricercarla tra l'altro io ho notato una cosa curiosa che adesso nei talk show ogni tanto c'è qualcuno che comincia a dire per esempio padellaro l'altra sera mi ha stupito addirittura diceva però attenzione perché adesso sembra quasi che stia cambiando cioè non stiamo più aiutando per difendere l'ucraina ma lo scopo sembra diventare quello di annichilire la russia di metterla in ginocchio non mi sembra che fosse quello il motivo originale cioè stanno facendo finta di accorgersene sempre con con dei tempi di reazione a rallentatore cioè sembra quei film quando uno fa così che dopo 20 secondi si è accorto della pallota che gli sta arrivando siamo sempre in ritardo su tutto su questo oltre a questo c'è anche la situazione diciamo geografica che si sta complicando perché c'è questo problema della Transnistria io confesso non l'ho capito al cento per cento ma adesso chiederò aiuto a voi perché appunto si sente parlare sempre più spesso di saldatura fra una potenziale presa del territorio di Odessa e questa fettina della Transnistria allora magari Roberto tu tra l'altro vai spesso in Romania quindi sei lì vicino come dire ci fai una ricostruzione relativamente sintetica di che cosa c'è in Moldavia come si è arrivata a questa situazione e quali sono le possibili svolte che possono avvenire nelle prossime settimane nel frattempo noi mostriamo una cartina per far vedere bene dov'è perché io fino a ieri confesso che non sapevo neanche che esistesse vai vai Roby allora la Transnistria io sono stato anche in Transnistria un paio di volte in passato la Transnistria è una striscia di terreno lunga circa 200 chilometri spessa in media non più di 20 quindi è un territorio molto piccolo con insomma poco più di mezzo milione di persone se ricordo bene sita tra la Moldavia e l'Ucraina e sono faceva parte della Moldavia appunto fino al 1989 90 quindi il grande passaggio però in realtà storicamente è sempre stata separata la Moldavia la Transnistria apparteneva all'impero russo della dinastia dei Romanov e la capitale l'attuale capitale della Transnistria Tiraspol fu fondata durante appunto il regno di Caterina II poi all'epoca c'erano delle guerre frequenti tra la Russia e l'impero ottomano e in questo contesto l'impero russo poi si impadronì anche del resto della appunto della Bassarabia che è un altro nome per la Moldavia sottraendola all'impero ottomano poi però c'è stata la rivoluzione d'ottobre con la rivoluzione d'ottobre la Moldavia è diventata parte della Romania però è rimasta all'unione sovietica appunto la Transnistria questo per dire che la Transnistria essenzialmente è sempre stata russa in un modo nell'altro e peraltro è anche abitata da popolazioni diverse da quelle della Moldavia principalmente popolazioni di origine russa e ucraina mentre la Moldavia è principalmente popolazione di etnia rumena e poi appunto quindi l'unione poi l'unione sovietica dopo la seconda guerra mondiale ha inglobato anche la Moldavia l'ha recuperata e ricordiamoci che la Romania aveva perso la guerra era come l'Italia alleata dei nazisti quindi ha perso la Moldavia che è diventata parte è stata annessa dalla Unione Sovietica e a quel punto è un po' una storia simile a quella venuta in Ucraina dove è stata associata la Crimea all'Ucraina ecco lì è stata associata la Transnistria alla Moldavia proprio perché nel contesto dell'Unione Sovietica si univano facilmente i percorsi poi i territori poi quando c'è stato il grande cambio dell'89 si è sfaldato l'Unione Sovietica e allora nella periferia c'è stato un periodo di grande caos nella Transnistria addirittura c'era la quattordicesima armata dell'Unione Sovietica che è stata abbandonata lì e smetteva anche di ricevere ed eseguire ordini da Mosca quindi era un'entità sestante era un periodo appunto di grande caos e in quel contesto nella confusa Moldavia si è iniziato a verificare quei fenomeni di diciamo confuso nazionalismo uso la parola confuso molto perché poi in realtà la situazione era più complessa e le cose sembrano più frutto del caso che del progetto sta di fatto che anche lì furono introdotte leggi per limitare l'uso della lingua russa cosa del genere allora si spiega una storia di nuovo simile a quella dell'Ucraina perché quelli della Transnistria abbiano deciso di separarsi c'è stata anche una guerra civile durata un paio di anni però una guerra civile un po' strana molto surreale con pochi combattimenti anche se ci sono stati chiaramente morti e alla fine della quale intorno al 92 appunto la Transnistria di fatto è diventata una sezione autonoma mai riconosciuta da nessun paese nel mondo neanche la Russia mai riconosciuto la Transnistria che però de facto è abbastanza indipendente si noti che per esempio in Transnistria c'erano molte più industrie che in Moldavia la Moldavia era un territorio agricolo la Transnistria industriale quindi tecnicamente più ricco e ancora adesso fino a tempi recenti so che l'unico grande stadio di tutta la Moldavia era in Transnistria quindi quando la nazionale per dire della Moldavia doveva giocare giocava in Transnistria quindi in realtà c'è una separazione che però è confusa nel senso che alla fine la circolazione è abbastanza libera tra le due zone. Poi quello che è successo adesso su cui poi ci parlerà anche in dettaglio Margherita è che sono state esplose delle granate sono state esplose delle granate c'è anche un filmato che mostra le persone che sparavano le granate dei droni apparentemente provenienti dall'Ucraina hanno distrutto delle antenne che diffondevano delle televisioni in lingua russa e la situazione sta diventando molto pericolosa molto pericolosa perché c'è già stato il consigliere di Zelensky in Ucraina che ha detto beh sarebbe il momento ideale per la Moldavia di andare a riprendersi la Transnistria se volete vi diamo una mano che ci impieghiamo 5 minuti quindi in pratica si candidano ad invadere la Transnistria i moldavi saggiamente hanno detto non vogliamo risolvere con la forza i nostri problemi con la Transnistria speriamo che mantengano questa linea perché poi anche da occidente pare ci siano movimenti di polacchi e rumeni che potrebbero prestarsi ad entrare a difendere per ragioni umanitarie la Moldavia o la Transnistria quindi ecco questo è il setup della situazione c'è pure questa complicazione in più infatti abbiamo anche l'articolo vengo subito da te Margherita abbiamo anche l'articolo scusa vediamo la slide numero 1 dell'antidiplomatico come Polonia e Romania avvicinano lo scontro totale russianato completa il concetto di questa possibilità Roberto tu hai detto stanno parlando addirittura di invadere la Moldavia per portare degli aiuti umanitari allora queste non sono informazioni ufficiali per il momento sono cose che trappelerebbero usiamo il condizionale così come trappelerebbe una ipotesi che vedrebbe i polacchi entrare nella Galizia sempre per ragioni umanitarie o d'altro e di fatto annettersi la Galizia chiaro che non sono cose che sono annunciate poi lo vedremo però pare che ci siano anche gli Stati Uniti che non avrebbero posto alcun veto rispetto a una situazione di questo tipo chiaramente sarebbe un'operazione fatta da delle nazioni al di fuori del contesto Nato questo poiché si vuole evitare di coinvolgere formalmente la Nato in questa nuova escalation della guerra che porterebbe all'automatica applicazione dell'articolo numero 5 quindi di fatto sarebbero paesi Nato che entrerebbero in guerra a conquistare delle regioni i russi hanno già detto che non hanno molta intenzione di che non vedono di buon favore il fatto che inizino anche degli sconti in transistria però dobbiamo comprendere che da un punto di vista tattico soprattutto per gli ucraini il fatto di creare una diversione in transistria e costringere i russi eventualmente ad occuparsene è un'occasione ghiotta tutto probabilmente dipenderà adesso dalla capacità in Moldavia del governo rumeno di rimanere insensibile alle pressioni che vogliono spingerla ad accettare gli aiuti che trasformerebbero la Moldavia in un terreno di battaglia è il più grave errore che potrebbero commettere d'altra parte potrebbero esserci provocazioni a crescere fino a quando non venisse dato il consenso questo è un po' lo scenario beh questo è sì, lo scenario secondo me rappresenta la tempesta perfetta che si aspettava da anni io credo che veramente sia stato tutto organizzato nei minimi particolari, nei minimi dettagli ad arrivare al punto di mettere gli uomini giusti nel momento giusto perché tutti questi paesi di cui ha parlato Roberto i paesi limitrofi, la transistria e l'Ucraina hanno le persone giuste tanto è vero che fino ad un anno fa alla presidenza della Moldavia c'era Dodon Dodon era filo russo anche se aveva dei problemi perché la maggioranza parlamentare non era filo russo ma era filo atlantica e filo europea tanto è vero che la Moldavia è piuttosto avanti nel processo di adesione nell'Unione Europea mentre invece adesso abbiamo Maria Sandu che è dichiaratamente sia filo Unione Europea che filo Nato quindi le pressioni da parte della Nato, da parte degli Stati Uniti, del Pentagono ci sono indubbiamente ma fanno anche piacere, questi sono tutti quanti i paesi che come descriveva giustamente Roberto in qualche modo hanno avuto a che fare con l'Unione Sovietica quindi questa è tutta la conseguenza alla fine della caduta del muro di Berlino della disgregazione dell'Unione Sovietica che ha portato a tanti piccoli stati che devono riuscire a collocarsi e non sono riusciti a collocarsi fino adesso e ora cercano di impadronirsi di territori che fondamentalmente dovrebbero essere russi per origine quindi la stampesta secondo me è assolutamente perfetta, le provocazioni le definirei provocazioni quelle che stanno venendo in Trasnistria perché chi dice chi è stato, chi dice chi, questo è il vero concetto è facile perché è facile creare una provocazione in questo momento, ovviamente i servizi russi adesso stanno pubblicando le immagini dei sabotatori dicendo che indubbiamente ci sono tutte le prove per dire che sono ucraini, però dalla nostra parte evidentemente ci sarà qualche di un altro che dirà questi sono dei sabotatori che sono indubbiamente russi ovviamente a chi daranno ragione i nostri grandi media, a coloro che dicono i sabotatori sono russi e quindi bisogna intervenire e quindi questa è un'altra provocazione che è sempre più vicino all'Unione Europea e noi dobbiamo stare molto attenti a continuare a fornire armi e continuare a simillare una guerra che potrebbe diventare sempre più grande anche come estensione geografica e ricordiamoci che noi abbiamo i missili puntati in particolar modo nella base di Aviano, questo non dovremmo mai scordarcelo e infatti stavo dicendo mentre il problema si ingrossa c'è qualcuno che gode c'è qualcuno che gode vediamo la slide numero 3 questo è un articolo uscito sulla verità è ripreso anche da altri quotidiani credo o da altre agenzie lobby delle armi in conclave a Roma per festeggiare l'affare praticamente i capi di 22 associazioni nazionali di produttori di armi da 17 paesi europei si sono riuniti in segreto ma qualcuno l'ha fatto sapere per festeggiare un affare di 230 miliardi di fatturato in Europa dice l'articolo che ha portato ad aumenti in doppia cifra delle quotazioni borsistiche dei produttori di armi quindi se voi mi mettete insieme la dichiarazione di Austin che dice la guerra serve a indebolire la Russia e se mettete insieme la festa che fanno di nascosto ma mica tanto i produttori di armi voglio ancora che venga uno a dirmi che la guerra è stata voluta da Putin perché a questo punto lo prendo sberle in faccia sicuramente Putin qualcosa ha fatto però le grandi lobby la fatta che l'ha fatta lui nessuno discute che l'abbia voluta veramente questa è la domanda che l'abbia voluta veramente io penso che l'abbia voluta veramente anche lui perché ricordiamoci sempre che la sua frase di qualche anno fa noi moriremo come martiri ma voi morirete come maiali sicuramente non l'ha detta per caso come nulla ha mai detto per caso Putin quindi noi eravamo avvisati vogliamo continuare con le provocazioni questo è quello che vi aspetta è chiaro anche che le lobby delle armi commerciano con tutto il mondo Cina, Russia e tutti inclusi non è che dobbiamo santificare nessuno perché è ovvio che qui ci sono delle motivazioni storiche o meno negli ultimi 8 anni come anche da prima però il mercato delle armi vale per qualsiasi paese ed evidentemente in questi ultimi anni le armi ce ne sono tante probabilmente l'Arabia Saudita non sono state sufficienti a buttarle nello Yemen ne sono rimaste molte altre e sono stati creati anche dei nuovi missili supersonici da ambo le parti poi probabilmente ci sono anche delle armi di cui noi non siamo a conoscenza è inevitabile questo e queste sono cose che fanno di cui godono tutti quanti tutti i paesi indipendentemente dalla situazione specifica di cui stiamo parlando cioè il mercato le lobby delle armi esistono in tutto il mondo come le mafie esistono in tutto il mondo e di conseguenza è chiaro che qualcuno in questo momento ci sta guadagnando molto ma tanto certo Robby ricordiamoci a questo proposito il famoso monito che Eisenhower fece nel suo discorso appunto di addio nel quale metteva in guardia nei confronti del complesso militare industriale dicendo che se non lo si teneva sotto controllo alla fine avrebbero deciso loro la politica quindi la politica di guerra da effettuare è inutile dire che è andata proprio così c'è da tenere una cosa presente scusami nel 59 quando fece quel discorso fino ad allora non c'era un'industria delle armi permanente cioè le armi venivano prodotte se c'era una guerra allora se c'era una guerra si prendeva una fabbrica di pentolini e una fabbrica di automobili e si trasformavano in una fabbrica di cannoni e una fabbrica di carri armati ma poi finita la guerra tornavi a fare i pentolini e tornavi a fare le automobili lui aveva capito già negli anni 50 che stava nascendo appunto l'industria bellica permanente è un'industria bellica permanente ovviamente di cosa ha bisogno di vendere i suoi prodotti se tu produci frigoriferi poi devi trovare qualcuno al quale marcisce il cibo per potercelo mettere dentro se no hai finito di fare quel mestiere quindi è chiaro era facile era facile per lui capirlo perché comunque le campagne elettorali dei deputati negli Stati Uniti qualcuno le paga e principalmente sono le lobby o petrolifere o delle armi poi ci sono anche le lobby farmaceutiche ma in primis sono le lobby delle armi e quelle petrolifere che ci giocano su questo quindi i senatori e i parlamentari che sono eletti negli Stati Uniti non è che vengono eletti così democraticamente come si vuole fare credere da qualcuno sono pagati poi quando vanno al congresso devono farsi portavoce non del popolo ma delle lobby che gli hanno dato i soldi da cui hanno preso i soldi a quanto pare sta succedendo la stessa cosa anche da noi però perché noi abbiamo anche noi un governo il quale adesso non solo vende le armi senza aver praticamente chiesto niente a nessuno o meglio avendo avuto un'approvazione il timbro ormai automatico del Parlamento che timbra tutto quello che passa di lì ma adesso hanno anche deciso di secretare le quantità e la qualità soprattutto delle armi che verranno mandati in Ucraina vediamo la serie numero 4 il COPASIR cioè il Comitato parlamentare per la sicurezza ha emanato un nuovo decreto interministeriale che autorizza l'accessione di mezzi materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina sui quali il Comitato ha convenuto con il governo nella posizione del vincolo di segretezza quindi praticamente c'è questo Comitato che decide lui con il governo che non dobbiamo neanche dire agli italiani quante armi e che cosa vendiamo se un giorno qualche russo decide di lamentarsi perché gli è arrivato un tipo di proiettile di troppo del quale noi non sapevamo neanche l'origine noi non avremmo mai saputo niente ne pagheremo solo le conseguenze quelle di sicuro probabilmente si tratta di partite di cerbottane di fionde di armi letali di questo tipo o forse questo è quello che pretenderanno di raccontarci quando poi i russi eventualmente trovassero delle nostre armi in Ucraina e volessero accusarci allora noi abbiamo andato solo cerbottane peraltro i russi hanno già trovato armi italiane tra l'altro dei mortai mi sembra proprio hanno detto bisogna poi vedere se è vero però sembra vero che le avrebbero trovate addirittura in una in una in una sede del OSCE cioè quindi un organismo che dovrebbe essere super parte se che invece evidentemente secondo questa accusa che chiaramente noi possiamo riportare ma non confermare avrebbe lavorato per una delle due parti che poi è la grande crisi in generale del nostro sistema dove tutte le istituzioni che si dicono neutrali in realtà stanno da una parte che è proprio l'anima intrinseca del fascismo inteso come fascio di forze tutte dirette verso un unico obiettivo ed è un problema grave tra l'altro ci sono anche voci adesso della Russia che si vorrebbe uscire lei dalla World Health Organization e dall'organizzazione del commercio proprio perché sono tutte istituzioni che ormai belligeranti quindi che fanno parte di un ed è di nuovo un altro sintomo di questa separazione in due andiamo proprio verso la spaccatura totale del mondo in due sì sì proprio le le strutture le strutture neutrali del mondo che si scoprono non neutrali sono cose che abbiamo in varia misura da sempre denunciato prendendoci delle battute di complottismo ma adesso non abbiamo la prova provata prova provata proprio dal fatto che da un lato abbiamo queste strutture che vengono smascherate mentre fanno le peggio cose il sequestro dei beni dei cittadini innocenti di un di un di un altro paese solo perché appartengono a quell'etnia sono delle cose dei normali cittadini russi residenti in Italia che si vedono bloccati i conti correnti cosa del genere ci sono storie proprio anche a livello basso non i grandi oligarchi come li chiamo che poi sono semplicemente dei ricchi ecco quindi è tutta una violazione del diritto a livello più estremo e che non andrà via non andrà via quindi ti autoassolvi e ti autodici tanto noi siamo dalla parte del bene quindi nel nome del bene io faccio questo questo e questo tanto siamo noi a decidere che cos'è il bene e quindi nessuno ce lo può contestare quelli che lo contestano non li sentiremo mai e quindi va bene così era quello che facevano i nazisti quello che facevano i nazisti al suo tempo dove tutto concorreva a a corroborare appunto la narrativa del potere cioè quindi avevi giudici che erano tutti di parte infatti poi molti sono stati anche puniti in seguito perché quando le strutture civili le strutture neutre le strutture che dovrebbero essere super partes sposano la guerra da un lato fingendo una una condizione super partes che si non hanno hai una condizione che porta o a una a un totalitarismo estremo o alla distruzione del sistema quando poi non si ottengono i risultati sperati perché se vince la Russia ma non la Russia quanto Russia la Russia in quanto elemento trainante del multipolarismo quindi la Russia insieme alla Cina insieme all'India insieme al Sud America insomma quindi insieme a quasi tutta l'Asia e beh allora poi sarà l'Occidente a trovarsi completamente isolato noi avremo tutti i gadget elettronici ma alle industrie mancheranno i materiali per farle e il gas si noti bene che anche il fatto adesso che la Cina sta facendo tutta questa questo teatro di lockdown eccetera guarda gaso ha bloccato i porti da cui vengono da cui vengono a noi un sacco di elettronica roba che ci serve eccetera eccetera quindi è molto probabile che anche questo sia una sorta di atto di guerra commerciale travestito da emergenza pandemica e visto che il teatro sanitario è andato per la maggiore in Occidente adesso nessuno in Occidente può accusare la Cina di boicottare l'Occidente con i suoi prodotti poiché loro usano la narrativa che abbiamo inventato noi quindi quella appunto della pandemia però può darsi che faccia parte dello stesso schema e quando la lotta la guerra si facesse più più aspra più più cattiva allora veramente scopriremo come poi a noi non arriva più niente di quello che ci serve sì io credo però che questa lotta per il multilateralismo sia fondamentale però sia anche importante riuscire a condurla senza tutte queste armi da ambo le parti perché altrimenti finiamo nella stessa situazione può vincere chiunque ma alla fine nei fatti continuerà a vincere quella lobby di cui abbiamo parlato che è quella delle armi quindi cosa cambierebbe sarebbe più importante riuscire a ritornare a ritornare alla logica della diplomazia da ambo le parti perché poi alla fine qualsiasi ragione se l'uomo viene sterminato qualsiasi ragione non ha più senso di esistere certo a proposito di cose che sappiamo che non sappiamo di come controllare la nostra informazione da questa parte del muro della cortina diciamo c'è stato un episodio veramente vergognoso quando diciamo alla vergogna dei giornalisti non c'è mai fine c'è un episodio che lo conferma in pieno durante la sua trasmissione Floris di martedì la settimana scorsa aveva come ospite Grimaldi Grimaldi ha detto una cosa adesso lo faremo vedere che ha fatto partire l'applauso del pubblico ma siccome questa cosa non piaceva a Floris Floris ha zittito il pubblico e gli ha detto non c'è niente da applaudire perché non c'è niente con cui io sono d'accordo cioè controlla anche gli applausi del pubblico facciamo vedere la clip per favore il video di numero 2 che in questo paese Ucraina come confermato mesi fa da tutta la nostra stampa anche da quella qui presente dall'OSCE e dall'ONU esiste un regime basato su forze politiche e armate naziste che ne fanno di tutti i colori che tutta un tratto sono volatilizzate non esistono più anzi sono diventate simpatiche e questo è un processo di odio nei confronti dei russi eccetera o del diverso che rassomiglia moltissimo all'odio che si teneva o si nutriva nei confronti degli ebrei alcuni decenni fa perché la stessa rimozione la stessa categorizzazione di sotto uomini di putiniani che sono inaccettabili questo è un dato di fatto veramente sorprendente fermi tutti non applaudite perché francamente non trovo con tutta la simpatia per Fulvio Grimaldi una parola da applaudire di quello che ha detto cioè non applaudite perché francamente non trovo una parola da applaudire di quello che ha detto quindi ci vuole il suo permesso per applaudire ma vi rendete conto dell'arroganza dell'arroganza di questa gente che sa talmente di non essere criticabile da nessuno che arriva addirittura a questi livelli cosa non si fa pur di continuare ad appartenere a certi ambienti però è pazzesco questa cosa fermi fermi non applaudite ma abbi pazienza io sono qui pagato da te per farti la clac allora dillo chiaramente che facciamo prima sì che lui ha detto che lui non trova niente di cui applaudire però è questo fatto che la sua opinione sia l'unica che conti che è l'elemento rivelatore la cartina di torna sole della mentalità di questi personaggi e poi addirittura comico quando appunto questi personaggi si tradiscono in maniera così plateale perché qui è chiaro che si è tradito poi visto che la situazione è anche tragica siamo nel tragicomico che è una categoria che qui in Italia va per la maggiore sempre c'è poco da aggiungere è l'ennesima conferma va bene grazie per i vostri commenti grazie anche per la bella lezione di storia io ne ho approfittato perché sapevo molto poco un saluto a Margherita buon fine settimana a tutti e un saluto a Roberto un saluto a tutti ah mi ero dimenticato di dirvi una cosa ve la dico in coda stiamo facendo preparando le versioni multilingue del documentario sull'Ucraina sono già pronte quelle di francese è pronta quella in cieco stiamo lavorando su quella in inglese in tedesco in spagnolo in danese e persino in portoghese quindi la settimana prossima vi daremo tutta la lista delle versioni disponibili e di dove andare a trovarli in modo che poi ciascuno con gli amici degli altri paesi potrà farle circolare grazie a tutti e vi lascio con la solita raccolta di meme della settimana arrivederci grazie a tutti 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 Grazie a tutti.